esistono tre transizioni che sono la sfida principale del nostro tempo che sono la transizione verde la transizione digitale e la transizione demografica e la transizione demografica se non è gestita nel modo adeguato rischia di compromettere anche le altre due transizioni l'Italia come molte altre economie mature avanzate si trova a fronteggiare una crescita della popolazione anziana perché si vive sempre più a lungo ma anche una riduzione progressiva della popolazione più giovane in Italia più accentuata per la persistente bassa natalità questo sta sempre di più incidendo anche sulla forza lavoro potenziale che rischia di diminuire drasticamente ed indebolirsi e si vede in tutti i settori del sistema paese quindi anche rispetto alle professioni quello che bisogna fare è agire sul potenziamento qualitativo della condizione dei giovani quindi visto che si riducono dovremmo investire ancora di più sulla loro formazione sulle loro competenze avanzate e anche trasversali sull'orientamento rispetto alle loro scelte sia formative che professionali sulla possibilità anche di un incontro più efficiente tra domanda e offerta di lavoro e poi su un investimento anche sulle nuove tecnologie investire di più su ricerca, sviluppo e innovazione quindi trasformare anche le idee dei giovani in progetti imprenditoriali in azione attiva all'interno del mondo del lavoro portando la loro novità e aiutandoli a rendere valore la loro novità con la loro azione nella società e nel mondo del lavoro ecco da questo punto di vista dato che noi abbiamo una percentuale più alta di NIT i giovani che non studiano non lavorano c'è veramente molto margine se investiamo dal punto di vista qualitativo per dare una spinta positiva al paese e con le nuove professioni e con le professioni in generale liberali che possono veramente dare energia positiva a un sistema che trova la strada giusta verso un futuro che ha bisogno di rendere integrate queste tre sfide quindi quella che riguarda il rapporto tra generazioni la sfida demografica, le competenze digitali e le sensibilità verso lo sviluppo sostenibile che le nuove generazioni possono portare grazie a tutti grazie a tutti